...e mi da sporte. ...e più tecnologico. Compra VIT Profumata, VIT in cucina e i tovaglioli VIT Superboom. Puoi vincere due fantastiche auto ibride e ogni mese due smartphone di ultima generazione. Che bella storia! VIT ti premia e vinsero tutti felici e contenti. Regolamento completo sul sito www.vit-tipremia.it Denti perfetti? Da oggi puoi! La clinica Sanatrix in via San Domenico al Vomero. Da oggi si arricchisce della professionalità e competenza del dottore in odontoiatria Gianfranco Galasso per offrire il nuovo servizio di implantologia dentale a carico immediato. Impianti in titanio, biocompatibili, certificati dall'azienda italiana Isomet con costi altamente competitivi, mantenendo gli alti standard qualitativi delle sale operatorie della clinica Sanatrix. Professionalità, sicurezza, garanzia dei materiali e abbattimento dei costi ancora più competitivi delle cliniche estere. Richiedi il tuo appuntamento allo 081 71 73 723. Se stai pronunciando quel sì, lo voglio, vuol dire che credi nelle emozioni. E quando si fanno certe scelte, anche la casa e lo stile si sposano con te. Dotolo Mobili ti propone speciale arredo sposi, arredo completo modern life, cucina, parete attrezzata, camera matrimoniale, divano letto a soli 7690 euro. Arredo completo contemporary a soli 9590 euro. E in regalo smart tv, lavatrice o asciugatrice. Speciale arredo sposi è un'esclusiva a Dotolo Mobili e paghi in comoterate senza anticipo. Dotolo Mobili, qualità al giusto prezzo. A passo di Mirabella, Foggia, Bellizzi di Salerno, Benevento, Teverola, Caserta. La fantastica confettata Crispo, per il giorno più bello della tua vita. Confetti Choco Passion, con cuore di cioccolato al gusto di savoiardi. Mille foglie, meringa e frutti di bosco, torta caprese, ricotta e pera. Scegli i tuoi preferiti fra più di 70 irresistibili gusti. Confetti Choco Passion da Crispo, i confetti della felicità. Per il vostro nuovo arredamento volete qualità? E anche convenienza? Beh, allora qui ci vuole Cirella Arredamenti! Solo qui troverete le più belle soluzioni d'arredo. E la migliore qualità del settore! E grazie a due sedie espositive la scelta è veramente ampia. E qui troverete sicuramente il vostro nuovo arredo. E se acquistate adesso, questa è la promozione del momento. Acquista una cucina completa di 4 elettrodomestici. La lavastoviglie e il piano cottura sono il regalo! E poi, finanziamento in 24 mesi e interessi zero sulla merce in esposizione, trasporto e montaggio in omaggio. E finanziamento fino a 5.000 euro senza busta paga. Con questa promozione noi abbiamo già acquistato! E voi? Fidatevi del consiglio! Qui da Cirella Arredamenti la convenienza e la qualità sono di casa. Cirella Arredamenti a Ponticelli. In via Argine 755. E in via Charlie Chaplin 11. Ed anche su www.cirellaredamenti.it E noi ci troverete qui! Cirella Arredamenti! Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino! Trio Carbone migliora il benessere intestinale! E oggi in Flaconcini Trio Carbone Gas Control! Da Pulfarma in farmacia. Farma in farmacia. Farma in farmacia. Farma in farmacia.